Hanno perso passi, c'è spazio davanti a sé, che gol, splendida rete, se questo fosse il risultato al fisco finale, con questo gol ci sarebbe la scertezza, occhio alla ripartenza, attenzione, questo gol dovrebbe mettere il ritardo a tutte le sorprese e garantire la promozione, può mettere da lì, è a cuore l'idea, tiro assolutamente da cancellare, si libera bene qui, provano a piazzare, ed è rete, stanno dilagando, la loro vittoria non c'è la discussione a Nello fino adesso, e questo significa che potranno... Prova il tocco sotto per scavalcare il portiere, nulla da fare, out of the hole. Si libera Fazio, attenzione, va con il tocco sotto, tocco sotto elegante, che scavalca il portiere, prosegue l'attuazione, occhio al tiro, ci arriva con la punta delle dita. Prova dalla distanza, ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla traversa, conclusione qui è mancato solo un piccolo... Grazie a tutti!